In un solo colpo il Bitonto ritrova gol, vittoria e un attacco finalmente sugli scudi. Il match interno contro il Santa Maria Cilento era un appello fondamentale per la velletta di salvezza delle uni. Appello a cui hanno risposto presente con la miglior prestazione stagionale. 2-0 il risultato finale. Tabù finito per Palazzo e Figliolia e una classifica ora più corta nonostante l'ultimo posto in condominio con Palmese e Gallipoli. E' quello del gol il grosso problema del Bitonto. 5 partite interne senza segnare, sono un macigno per l'accoppiata Santo Ruvo Modesto. In soccorso ecco il Rossiello che riapre le porte alla squadra ma non al pubblico. Il 3-5-2 è il modulo che dà maggiori garanzie al collettivo Nero Verde. Zugher e Fioretti incaricati nel dare ampiezza, Palazzo e Figliolia nel muovere finalmente il tabellino. Nel complesso è buono il momento del Santa Maria Cilento. Dopo lo 0-0 con il Barletta, Rogazzo vuol continuare a muovere la classifica. Solito 4-3-3 e solito trio maiese tedesco-catalano là davanti. Frizzante l'approccio del Bitonto. Muscatiello, arma Figliolia, aggancio e tiro fuori misura. Danno fastidio ai campani i movimenti delle mezzali di casa. Mollica trova il pertugio giusto per Fioretti che mette il mirino alla porta ma la manca clamorosamente. La svolta arriva al 33esimo. Borgia perde il contatto visivo con il pallone e frana cose su plinari, rigore e opportunità per il vantaggio bitontino. Dagli 11 metri, Palazzo spiazza Spina e mette fine a un digiuno interno prossimo ai 500 minuti. 1-0 con il secondo gol stagionale del capitano dopo quello di Palma Campania. Praticamente non pervenuto il Santa Maria dalle parti di Diamè, l'unico attimo di paura nel recupero del primo tempo. Catalano conta i passi ed a posizione siderale scheggia la parte alta della traversa. Tanti brividi ma il Bitonto riporta negli spogliatoi un meritato e prezioso vantaggio. Il secondo tempo comincia per il Bitonto con una buona e una cattiva notizia. La cattiva è l'infortunio di Plinari. Colpa la caviglia e cambio con Obodo. La buona è il ritorno al gol anche di Simone Figliolia. Lancia illuminante di Mollica, l'attaccante aggancia e insacca con qualità alle spalle di Spina. 2-0 e così come per Palazzo si tratta del secondo centro stagionale. Il Santa Maria prova ad assi una sveglia con Dauri e Colibali, ma quella del Rossiello è una versione davvero sbiadita dei giallorossi. Catalano è il più pericoloso, qualche palla tagliata ma niente più. Il Bitonto con Muscatielo e Tangorra spostati come quinti di centrocampo, mette in cassaforte la vittoria tornando al successo interno dopo oltre tre mesi. La zona play-out è lì dietro all'angolo. La salvezza diretta non più così lontana, ma i neroverdi non sono ancora del tutto guariti. 5 punti in tre gare e terzo clean sheet consecutivo. Per capire se i bitontini sono del tutto rinati, bisognerà aspettare settimana prossima quando Palazzo e compagni saranno chiamati alla non impossibile trasferta di Fasano.